Sì, grazie Presidente per la parola. Allora, una mozione importante, interessante. Noi ricordiamo però al Consigliere Bordoni che nel Movimento 5 Stelle, nei tre anni passati, quando era l'opposizione dei municipi, ha presentato per ogni municipio appunto una mozione proprio che andava in questo senso, cioè creare una mappatura dettagliata dei siti dove è presente ed era presente l'amianto. Noi oggi che governiamo abbiamo convocato tempo fa una Commissione Ambiente per affrontare questa questione con tutti i municipi e con tutti gli uffici tecnici per sapere a che punto è questa mappatura e per capire come procedere. Abbiamo inoltre proposto di creare un ufficio all'interno del Dipartimento Ambiente con una persona deputata ed esperta proprio che conosca la materia legata all'amianto e quello che appunto le particelle dell'amianto provocano alla salute dell'essere umano. Perciò i municipi ci hanno informato e soprattutto anche il Decimo, ricordiamolo su impulso comunque di questa amministrazione, ha elaborato e ha ultimato una mappatura molto dettagliata e molto descrittiva delle situazioni più critiche presenti nel territorio del municipio Decimo e a tal proposito si sono mossi preventivamente per cercare di bonificare, di sanare quelle aree a rischio. Oltre questo anche gli altri municipi di Roma, gli altri uffici tecnici, si sono mossi per redigere questa mappatura molto dettagliata. Questo sta a significare che questa amministrazione come tema ce l'ha sicuramente a cuore e ha investito molto e continuerà a farlo. Noi su questa mozione oggi siamo tenuti ad astenerci perché, ripeto, grande lavoro è stato fatto, possiamo dare maggior impulso alla Commissione Ambiente che è aperta per qualsiasi dibattito e per qualsiasi iniziativa. Grazie Presidente.